Il gol di Rummenigge 4-1. Un po' meno nebbia, ma anche immagino fuscate da Parigi per la vittoria del Paris Saint-Germain sui Gallesi dello Suonzi 2-0. Ecco il gol dell'olandese Kisse, ex a Z67. Poi in mezzo, fra il primo e il secondo gol, c'è questo palo colpito dai francesi che hanno così eliminato i Gallesi dello Suonzi. I Gallesi escono del tutto dalla scena. Ecco Fernandez che inizia l'azione, scambia con un compagno, si chiude bene il triangolo, raddoppio di Fernandez 2-0.